Aria di pane nasce dalla curiosità di esplorare nuove consistenze e volumi. Scelgo la pasta madreviva, farine selezionate e rendo la struttura avevolata e ricca d'aria. Un delicato contrasto friabile e palato con un cuore che si scioglie in bocca. La mia Aria di pane. La mia Aria di pane.